I Goonies, scatenato gruppo di ragazzini abitanti nel quartiere di Goon Docks, devono dare l'addio alle case dove sono nati e cresciuti. La zona è destinata a una vasta ristrutturazione, che probabilmente investirà anche le case dei loro amici. Per questo quando in soffitta Mickey trova la mappa del tesoro del pirata Willy Lorbo, convince i coetanei Data, inventore provetto, Chuck, Goffo e Goloso, e Mouth dalla parlantina inarrestabile, a seguirlo in un'avventura che li porterà a navigare insidiosi tunnel. Braedon e due ragazze della sua età, Stephanie e Andrea, li accompagnano cercando di proteggerli, ma sulle loro tracce c'è anche la pericolosa famiglia criminale italo-americana dei fratelli.